Nell'immaginario generale il culto delle reliquie viene associato all'età medievale. In realtà anche in pieno 400 abbiamo non minori testimonianze di una passione in questo senso e non solo nella devozione popolare. Ad esempio in particolare a Siena nel 1464 giunge in donna alla cattedrale dall'allora papa Pio II ovvero il papa umanista Neosilvia Piccolomini la prestigiosissima reliquia del braccio destro di San Giovanni Battista. E proprio da questo oggetto col suo ornamento di gemme, perle e filigrane muove lo studio di Anita Paolicchi che mette in evidenza la differenza di trattamento riservato a tagli oggetti di fede nell'originaria religiosità orientale e nella pratica cultuale latina. Oltre a questo esemplare è interessante nel lavoro della Paolicchi il rilievo dato ad altri oggetti meno eclatanti ugualmente giunti in Toscana dall'Oriente per varie vie. Ad esempio il braccio di Sant'Ermolao della Pieve di Calci presso Pisa o l'incolpio contenuto nel grande reliquario Vagnucci oggi nel Museo di Ocesano di Cortona. Oppure ancora la piccola croce pettorale conservata a Vico Pisano ma riconosciuta opera di una bottega costantinopolitana dalla quale provengono altri due eccezionali capolavori nella loro microscopicità uno al Museo archeologico dell'Accademia Bulgara di Scienze di Sofia e l'altro direttamente al Metropolitan Museum di New York. La lettura di questo testo non è soltanto un approfondimento erudito ma è davvero un aprirsi di una finestra su storie di oreficerie da una parte all'altra del Mediterraneo. Le reliquie, oltre ad essere interessanti per il loro valore religioso sono uno strumento utile per cercare di comprendere meglio la società medievale e premoderna. La loro storia tuttavia è spesso nebulosa. Informazioni utili per ricostruirne le vicende si possono trarre però dai documenti e dagli ornamenti metallici che le hanno accompagnate nel loro viaggio dall'Oriente verso l'Occidente e in particolare verso la Toscana che rappresenta il focus di questo libro. Particolarmente interessante è la storia della reliquia del braccio destro di San Giovanni Battista oggi nel Duomo di Siena con cui si apre il libro. Nonostante le fonti siano estremamente contraddittorie lo scenario che alla fine si delinea è estremamente interessante e le vicende della reliquia appaiono essere assai più avventurosi di quanto inizialmente si potrebbe immaginare coinvolgendo sia personaggi di primo piano della corte costantinopolitana sia figure di rilievo della corte papale ma anche personaggi un po' inaspettati dei regni serbi e anche dei despotati del Puello Ponneso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.